oggi facciamo insieme tre antipasti natalizi per la base useremo del pane per tramezzini ecco il primo antipasto formiamo due cerchi uno lo lasciamo intero e l'altro con una formina a forma di albero incidiamo al centro sul cerchio integro mettiamo due cucchiaini di pesto e poi sopra il cerchio con l'alberello se avete del melograno potete abbellire altrimenti lasciatelo semplice il secondo antipasto sempre alla base pane per tramezzino e ricaviamo dei cerchi con un coppapasta o un bicchiere in una ciotolina mettiamo della rucola tritata e un po di filadelfia e mescoliamo il tutto mettiamo questa crema di rucola sul pane ed infine un gheriglio di noce con un po di glassa di aceto bazzamico il terzo antipasto invece sarà gorgonzola cremoso dolce, noci e pere mettiamo del gorgonzola sul pane, poi noci tritate e una fettina di pera croccante con la buccia ben lavata fatemi sapere quale di tre preparerete lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale, buone feste, ciao! ciao!